Buongiorno e benvenuti al Pala Ercole di Policoro per la finale di Coppa Italia Junior e Senior Maschile Femminile a due oggi, a uno domani organizzata dalla SD Codoka Lucania e Brienza e dall'SD di un centro sportivo Codoka San Pietro Altanago in collaborazione con il comitato regionale Filca Basilicata e con il patrocino della regione Lucania, provincia di Matera e comune di Policoro e come è consueto noi iniziamo sempre nelle nostre manifestazioni nazionali con una musica che ci prende del cuore ma oggi a farci ascoltare questa musica meravigliosa è un gruppo della scuola dell'istituto comprensivo statale di Policoro Milani seguito dalla preside signora Agnese Schettini e saranno gli allievi e saranno gli allievi che fanno parte del progetto Giudo Folcitre seguiti e condotti dalla signora Pierina Scardaccione laureata al Conservatorio e referenti del progetto Apprendimento della Musica della Scuola Primaria e saranno loro a farci ascoltare l'initare allora noi invitiamo tutto il pubblico a venire in piedi e ci facciano prendere Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.